Con appena 31 metri quadrati di verde urbano a testa, le città italiane non riescono a rompere l'assedio dello smog. I valori sono sotto la media per le metropoli, 22 metri quadrati di Torino, 17,9 quelli di Milano, 13,6 a Napoli. E' questo ciò che emerge da un'analisi della Coldiretti su dati Istat in relazione al fatto che, insieme ad altri paesi, l'Italia è stata inviata alla Corte di Giustizia dell'Unione Europea per aver violato le norme europee anti-smog. In particolare, per il nostro paese, la contestazione riguarda il superamento dei limiti di PM10, le cosiddette polveri sottili. Una risposta può arrivare dal potenziamento del verde urbano, commentano Fabrizio Gagliati, vicepresidente di Coldiretti Piemonte, e Bruno Rivarossa, delegato confederale, visto che una pianta adulta è capace di catturare dall'aria dai 100 ai 250 grammi di polveri sottili e un ettaro di pianta elimina circa 20 kg di polveri e smog in un anno. In questa direzione, il bonus verde, che prevede detrazioni del 36% per la cura di terrazze e giardini, sia privati sia condominali, è certamente d'aiuto. Oltretutto, ricordano Gagliati e Rivarossa, offre anche un importante sostegno al settore florovivaistico made in Piemonte, che genera una produzione lorda vendibile di oltre 130 milioni di euro, di cui, con più di 1.100 imprese diffuse sul territorio, una superficie complessiva di 1.300 ettari, una produzione di piante ornamentali di oltre 10 milioni e un totale di circa 3.500 addetti. Un provvedimento, concludono Gagliati e Rivarossa, che può quindi arrivare a portare benefici all'intera collettività, favorendolo a diffusione di parchi e giardini in città, capaci di catturare le polveri e di ridurre il livello di smog sempre più pericoloso per la salute dei cittadini.